Se ne parla da troppo tempo e oggi finalmente si sta facendo qualche passo in avanti per abolire l'IVA sugli assorbenti femminili. Virtuoso in tal senso il comune di Mira che con questo gesto vuole lanciare un messaggio al governo aderendo alla campagna targata Coop Close the Gap Riduciamo le Differenze. Ovvero nelle nostre farmacie di Mira e di Oriago le donne potranno acquistare gli assorbenti ad un prezzo scontato come se noi togliessimo l'IVA. Il messaggio è chiaro, il governo deve prendere atto di questa richiesta che viene dal mondo delle donne e ridurre e tagliare l'IVA. Tagliando l'IVA gli assorbenti non saranno più un bene di lusso ma saranno un bene d'uso comune. Le farmacie sono presso il centro Mirasole di Mirataglio e in piazza Mercato a Oriago. Anche se c'è ancora molto da fare per ridurre le differenze di genere nella vita di tutti i giorni questo è già un segnale. Crediamo in questi fatti concreti, in questi atti tangibili che possono permettere veramente di dare un taglio alle differenze. Quindi ricapitolando, nelle farmacie comunali di Mira e di Oriago le nostre donne potranno avere quello che da tempo chiedono, ovvero dei loro prodotti di uso comune a un prezzo contenuto. Grazie. Grazie. Grazie.